Procopio appoggia poi per paparazzo gran fungirata ed è lui paparazzo che la mette nell'angolino un tiro di potenza. Procopio che protegge il pallone cerca di andarsene con Veronica rimette in mezzo ed è di testa canistra. Il bello del calcio è poter incontrare tanti amici ma soprattutto dei totem del calcio come mister Carnà che oggi si vedeva la sua mano in uno stignano che ha giocato una partita onesta volitiva forse contro un Montepone più forte ma si vedeva che dalla panchina era ben guidato. Grazie sì effettivamente do un grosso applauso al Montepone ma sapevamo la forza della squadra anche in una giornata dove noi ci siamo trovati con 7-8 elementi in meno per motivi un pochettino particolari e abbiamo fatto la nostra partita quello che potevamo fare ripeto contro una squadra attrezzata per vincere il campionato. E comunque lo stignano si conferma una squadra solida che probabilmente cercherà la salvezza tra le mura amiche. Sicuramente sì non era certo questa la partita per darci grandi punti diciamo. Le partite sono altre cominciare da domenica contro una diretta concorrente che la si è rese e niente. E complimenti alla squadra, al mister e anche alla società che è venuta qui in massa con tutti i dirigenti. Grazie soprattutto alla società perché ragazzi che si impegnano stanno dando un divertimento tutto sommato e veramente sono una società che merita con tanti sacrifici quello che sta facendo in un paese piccolo come Stignano. Ed è quando la navigazione diventa difficile e i flutti diventano agitati che serve un nocchiero che abbia la grinta per dire ricominciamo, ricominciamo bene. Dalla tribuna abbiamo visto un mister Pisano che rampognava tutti fino all'ultimo minuto però alla fine è arrivata la vittoria. Sì perché comunque in ogni caso noi non siamo nuovi a riaprire magari partite che sembrerebbero chiusi quindi è normale che dobbiamo migliorare sull'aspetto di non mollare mai fino a quando l'arbitro non fischia la fine e oggi anche oggi alla fine dopo aver merita da mezzo secondo me portato a casa la partita abbiamo rischiato su quel contropiede con un calcio di punizione dal limite che secondo me si può tranquillamente evitare perché è una palla gestibilissima questi calli li dobbiamo cancellare. E dato che io disturbo sempre il mister parlando dei singoli si può dire Salvatore Procopio come Mandzukic? Salvatore è sempre tra i più positivi quindi non mi meraviglia assolutamente fa un grande lavoro per tutti quindi è un ragazzo da prendere da esempio e anche oggi ha fatto lo stesso, ha fatto una grande gara come tutti perché sono abbastanza contento anche se sbatto sempre lì sul fatto che probabilmente dobbiamo fare qualche gol in più. E in prospettiva si suol dire quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare visto che il San Carogero sembra lontano mister Pisano comincia a giocare. Dobbiamo assolutamente riuscire a pensare solo a noi, il San Carogero sicuramente bisogna fare solo i complimenti perché sta tenendo un passo che credo sia inarrivabile perché comunque ha vinto queste tutte le partite e quindi non si può fare niente bisogna fare solo un applauso al San Carogero che sta lasciando un vuoto dietro noi dobbiamo pensare a noi stessi, migliorare, domenica ci aspetta una partita difficile prima di domenica abbiamo il ritorno di Coppa che noi andremo a giocare per passare il turno perché vogliamo passare il turno quindi assolutamente non abbiamo un attimo di sosta e quindi non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo sperando di riuscire alla fine della stagione a portare qualche gioia ai nostri tifosi.